Realizzare un unico percorso ricco di storia e di fascino che colleghi Roccasecca, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Castrocelo ed Aquino, volto alla riscoperta delle terre di San Tommaso. È stata firmata la convenzione che approva il progetto per lo sviluppo turistico da 5 milioni di euro denominato Respiriamo San Tommaso. Roccasecca è il comune capofila. Abbiamo voluto lanciare questa proposta che investe un profilo prettamente turistico e che va a ricollegare quei comuni che in qualche modo hanno come centrale l'elemento di San Tommaso d'Aquino e che vogliono appunto in sinergia lavorare per lo sviluppo turistico. Io proprio nei giorni scorsi ho lanciato la proposta di aprire un tavolo di area vasta proprio perché lo sviluppo e l'opportunità che ci dà il fondo del PNRR va colta con una sinergia. Gli asset di questo territorio sono chiari. Può essere un modello perché non c'è solo questo territorio fortunatamente ha diversi asset, non c'è solo quello turistico, ma lo stesso modello potrà essere utilizzato anche per cogliere altre opportunità sempre ricollegate al PNRR, magari per attrarre investimenti sul profilo industriale, sulle nuove tecnologie e su tutto quello che può garantire sviluppo. I comuni fanno squadra per competere nel bando PNRR sulla rigenerazione urbana. Cinque progettualità che confluiscono in Respiriamo San Tommaso, che prevede la realizzazione di un percorso sui sentieri che attraverso i territori coinvolti, che riguarda l'area compresa tra le pendici di Monte Caro e la confluenza del fiume Merfanelliri. È una sfida, una sfida perché noi comuni medio-piccoli, chiamiamoli così, abbiamo una difficoltà marcata rispetto ai grandi comuni superiori a 15.000 abitanti che hanno ottenuto il finanziamento direttamente, senza dover progettare, hanno solo mandato delle schede. È iniqua questa situazione, però noi siamo pronti a questa sfida, ma la nostra idea è un'idea forte e vincente, mettere insieme in un percorso che richiama San Tommaso, Aquino, Roccasecca, Colle San Magno, Piedimonte e Castrocello è un fatto che ci inorgoglisce. Noi siamo certi che finalmente San Tommaso diventa patrimonio di questo territorio, patrimonio di tutti, senza divisioni, senza muri, senza steccati, senza campanili. Quindi valore importante a livello mondiale.